Ancora un importante riconoscimento per la via Silente, questo progetto che sta portando in alto il nome del Parco Nazionale, una bella pedalata in bicicletta per ricordare di che cosa parliamo nell'area protetta dalla costa all'entroterra. Siete appena rientrate da Verona, dove avete ritirato questa targa per la menzione speciale, la via Silente Campania, il riconoscimento nell'ambito dell'Italian Green Road Award. Allora, Simona, di che cosa parliamo? Parliamo di un premio importante, importante soprattutto perché rappresenta un riconoscimento a livello nazionale, cioè si è parlato della via Silente, quindi del Cilento, di questo fazzoletto di terra in cui abitiamo, in tutt'altro contesto, a Verona, 800 km da qui, e lì dove il target è già molto interessato al cicloturismo, nella fiera Cosmobike di Verona. Quindi qualcosa di molto importante, per noi è una grande soddisfazione, ma soprattutto per il territorio, la possibilità di mostrare le bellezze del Cilento. Ed era l'unica nomination per la Campania? Era l'unica nomination per la Campania, sì. Ed è stato veramente una grande soddisfazione entrare in fiera e vedere sugli schermi le immagini del Cilento, questo filmato che parlava di via Silente. È stato veramente bello, emozionante. Allora, questo progetto che è partito dal cuore di Castelnuovo, ha coinvolto pian pianino tutto il territorio occidentano, ora ha una risonanza in ambito nazionale ed è destinato comunque a diventare sempre più importante. Siete giovanissime, allora che cosa vi aspettate da questo progetto? Noi nel progetto la via Silente ci abbiamo sempre creduto. Sono due anni che ci lavoriamo con tanto impegno, tanto sacrificio, tanta passione. La prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo cercato di realizzarlo concretamente. Dopo la realizzazione concreta del progetto abbiamo cercato di portarlo all'attenzione pubblica. Quindi in questi due anni abbiamo incontrato sindaci, abbiamo incontrato le istituzioni, gli operatori turistici, le associazioni. Abbiamo cercato di convincerli. Penso che ci siamo riusciti. Gli abbiamo convinti. Perché? Perché la via Silente convince. Cioè la via Silente convince perché rappresenta un perfetto connubio tra sport, salute e ambiente e può rappresentare per il nostro territorio un volano economico, perché punta alla destagionalizzazione dell'offerta turistica, quindi con ricadute poi economiche e sociali. Va ricordato che il cicloturismo in Italia è un mercato giovane, ma è un mercato in espansione, mentre nel nord Europa è una realtà già consolidata, quindi è un mercato maturo. Quindi ci sono tutti i numeri, ci sono i numeri importanti. Noi dobbiamo solo cercare di convogliare questi numeri e portarli nella nostra via Silente, che è pronta, pronta ad accoglierli. Diciamo quasi pronta perché manca un piccolo tassello, però nei prossimi mesi noi aggiungeremo questo tassello importante al nostro progetto, perché la Regione Campania, lo voglio sottolineare, ha sposato in pieno il nostro progetto. E soprattutto l'assessorata al turismo, nella figura dell'assessore, appunto, Corrado Matera, ci verrà finanziata la segnaletica dedicata sull'intero percorso, che sono 592 chilometri e ben 262 segnali. Quindi la via Silente è pronta. Ecco, siete partite pian pianino. Prima, ecco, tu e Carla, un'altra storica fondatrice di questo progetto, avete affrontato questa pedalata in solitario, un primo momento. Poi avete iniziato a coinvolgere le strutture turistiche, ecco, gli amministratori, siete arrivate anche alla Regione Campania. Ecco, tra poco torneremo anche al premio alla menzione speciale, ma a che punto è la via Silente? Come diceva Tonia, è a buon punto. Ovviamente adesso comincia quella che è la parte più complessa, ma anche più entusiasmante, e cioè la promozione. Devo dire che nell'arco di pochi mesi, negli ultimi due mesi, sono uscite quattro pubblicazioni su quattro riviste nazionali, riviste di cicloturismo, la rivista Il mensile dove, quindi riviste che parlano di viaggio, di una certa tipologia di viaggio. Quindi il nostro lavoro adesso qual è? è quello di promuovere questo progetto e, come dicevamo, di portare in Cilento le persone che hanno intenzione di esplorarlo in questa maniera lenta, così come abbiamo fatto due anni fa io e Carla. Immaginavi tutto questo quando qualche anno fa avete dato inizio alla prima pedalata? Diciamo che lo speravo, ma perché sono ottimista in genere sulle cose che faccio, però non pensavo che tutto sarebbe accaduto in così breve tempo. Questo per noi è importante e ci trova anche, tra virgolette, un po' impreparati in termini di tempo, perché ognuno di noi ha il suo lavoro, per cui anche la Via Silente sta diventando un lavoro importante. Quindi cerchiamo di convogliare tutte le nostre energie per la buona riuscita di questo nostro progetto. Ci sono state già delle risposte dei turisti che sono arrivati qui in bici e hanno, come dire, si sono inoltrati alla scoperta del parco attraverso la Via Silente? L'ultima è questa donna di Firenze che è partita stamattina, è tornata nella sua città dopo aver percorso un anello un pochino più piccolo, causa maltempo, quindi è rimasta sei giorni sulla Via Silente. È andata via estasiata da quello che ha visto, ma è stata anche molto critica per quanto riguarda la nostra gestione del territorio, che non è sempre, diciamo, delle migliori. La cosa che l'ha colpita, dice, è impossibile che in paesaggi così belli, che in un territorio così bello si veda tanta spazzatura per strada. Questo per noi è un problema, perché non possiamo preoccuparci e non siamo in grado di avere, diciamo, una visione completa di questo percorso, per cui tutti quanti sul territorio devono impegnarsi affinché il cicloturista vada via soltanto con l'idea del bello e non con queste, diciamo, questi nei, questa parte poco apprezzabile di quello che è il nostro territorio. Rispetto a un bel compito, ecco, si sta impegnando a 360 gradi nella promozione e nella valorizzazione del nostro territorio e di sensibilizzare ulteriormente chi già è impegnato in questo lavoro. Torniamo al premio da cui siamo partiti. Avete ritirato la targa per una menzione speciale? Sì, ovvero? Sì, noi siamo, l'esperienza veronese è stata entusiasmante. Abbiamo vinto una menzione speciale, ma soprattutto abbiamo avuto tanta attenzione. È stato premiato il coraggio, direi il coraggio, di otto giovani cilentani che hanno avuto l'ardire di realizzare un percorso cicloturistico all'interno di una regione, che è la regione Campania, dove le vie verdi non sono una normalità. In Trentino è una cosa ordinaria, le vie verdi. Quindi cercheremo di sfruttare al massimo questo premio. E poi è stato importante perché davanti a una platea importante, voglio citare qualcuno, quindi c'era il sindaco di Verona, Tosi, c'era la presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e poi c'era una presenza sportiva importante, ovvero la medaglia d'oro di Rio 2016, Elia Viviani, che possiamo vedere qui in foto. Da Verona siamo tornate ancora più cariche e soprattutto crediamo ancora di più nel nostro progetto, nelle potenzialità del nostro progetto. Abbiamo avuto tanti contatti, uno fra tutti appunto, Elia Viviani, al quale abbiamo strappato una promessa e non si sa che nel prossimo futuro potremo averlo ospite, nostro ospite, sulla nostra Via Silente, anche insieme al suo compagno di allenamento, pluricampione Ivan Basso. Quindi il futuro della Via Silente è in salita, è prospero, insomma. Non resta che continuare a pedalare? Non resta che continuare a pedalare e continuare a crederci e, come dicevo, a coinvolgere il territorio nella gestione. È un invito anche ai cilentani, soprattutto. È un invito ai cilentani, soprattutto, perché per quanto si possa fare in otto non si riesce a gestire un intero percorso. Insomma, è importante che nel momento in cui si fa promozione e quindi si riesce a portare sul territorio la persona, questa persona, come dicevo, vada via soddisfatta. Altrimenti, insomma, ci perdiamo tutto quello che di bello abbiamo fatto.